Siccome anche questa mattina ho letto l'ennesima puntata delle dichiarazioni del Presidente Zaya sul tema acquisto dei vaccini da parte della Regione Veneto, vorrei provare a fare chiarezza una volta per tutte. Io parto da qui, cioè com'è possibile che il Presidente della Regione e chi ha seguito l'acquisto dei vaccini per la Regione Veneto non si sia posto le stesse domande che ci stiamo ponendo noi da settimane? E cioè nel momento in cui la Commissione Europea dice che i vaccini possono essere venduti soltanto agli Stati e che così dicono i contratti con le aziende farmaceutiche, che le aziende farmaceutiche hanno dichiarato che loro vendono soltanto agli Stati, che le aziende farmaceutiche sono in ritardo pesantissimo nella consegna dei vaccini agli Stati e che quindi stanno di fatto rischiando l'inadempienza contrattuale e quindi anche disporsi alla richiesta di disarcimento danni da parte degli Stati e dell'Unione Europea stessa. Ma com'è possibile che ci fossero 27 milioni di dosi di vaccino sul mercato? Com'è possibile che non ci siamo neanche, che il Presidente Zaya non si sia neanche fatto venire il dubbio che quelle dosi o non esistevano perché erano acqua distillata, come ha detto lui, oppure che quel mercato di vaccini qualcosa di poco chiaro ce l'avesse? E non basta dire che il 12 febbraio abbiamo scritto a Inas come regione segnalando la questione, perché nel frattempo, nei giorni successivi, il Presidente nel corso delle conferenze stampa ha costantemente continuato ad alimentare la tesi che il Veneto stava provando ad acquistare 27 milioni di vaccini e che avrebbe vaccinato i suoi cittadini grazie a queste dosi. Dicendo anche in certi momenti che i vaccini comprati da questi fantomatici intermediari costavano uguale se non di meno rispetto a quelli che arrivavano tramite l'Unione Europea. Ma dove può esistere un intermediario che ti venda un vaccino a un prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto? Dov'è che guadagna l'intermediario? Per cui i casi sono due. O Zaia si è fatto prendere in giro per un mese da parte di chi voleva vendere questi vaccini, oppure, ben consapevole che questi vaccini non erano in realtà a disposizione, ha deciso per un mese di raccontare ai Veneti e a tutti noi che questa fosse una possibilità concreta. In entrambi i casi per un mese abbiamo discusso di vaccini che non esistevano.